Questa sera a Palazzo Novelli per l'iniziativa organizzata dal Centro Studi Borgogna abbiamo diversi ospiti. In questo momento siamo con Daria Braga, che è il direttore della Fondazione Laureus, e con Beppe Ambrosini, direttore generale IVC. Sì, raccontateci perché siete qui e cosa fate di bello. Io, come diceva prima, sono direttore di una fondazione che si occupa di inserire bambini che sono a rischio di esclusione sociale tramite lo sport e sono fiera di essere stata invitata, di poter, nel mio piccolo, contribuire a questa fondazione che si occupa di bambini con una fragilità diversa dalla nostra, ma pur sempre molto, molto bisognosi. E invece tu Beppe? E invece io, mi ha rubato tutto il discorso la mia direttrice e effettivamente siamo sempre vicino ai bambini e quindi siamo qui con il cuore, ecco. E oltretutto siamo tutti amici di Fabrizio Ventimiglia. Godiamoci quindi tutti questa piacevolissima serata. Grazie. Grazie. Grazie.